Bene a tutti, bene a tutti e favorevole alla pratica, grazie. Passavolta, appunto, a favorevole. Bene, grazie. Grazie a tutti, il voto è contrario. Per questo momento è evidente che, innanzitutto, possiamo di quantomeno cambiare il nome della pratica. Questa non è la verità di approvazione della cosa in programma. Qui è, sostanzialmente, una controproposta. È stato fatto un accordo, conferenza dei sindi, che rappresentano i consigli, che rappresentano la città. Arrivato in consiglio comune, la sottoposta dell'Agenza, si cambia la cantina. Ora si fa un accordo con po' a fondo. Ognuno valuti questo cosa vuol dire la comunità istituzionale. Prendo alto e ritengo che sia l'interesse della comunità, che sono dei dubbi, che venga. Chiedo a dare modifiche, mi chiedo come va, il 5 maizio, quando si vanno a dare un'altra domanda, se non gli avessi, hanno fatto un accordo, come dice, non è la sua grande condizione, non è la sua grande condizione. Quindi, il voto è contrario, perché i dubbi che ha, che si venga a tocare l'amministrazione, io ci trovo come, e chi, nella condizione più media, ha sentito il vettor Croce, e io ho avuto la tantissima impressione che c'era anche il vettor Croce. Quindi, infatti, a quel parere, io lo penso, che non lo vedo assolutamente, in modo vivo, fuori, costituito, come vorrei interpretare il vettor. Io lo vedo molto, non c'è nessuna certezza che questo vettoratore si donna a ricevere anche quel comprensorio, io credo che sia responsabile dell'administrazione tutelare la città di Aperia, e quindi, non parte del comprensorio servizio del procuratore. E non esporre rischi la nostra città, che non è nessuno. Io credo che sia assolutamente il contrario, e, in qualche modo, sono certo che in questa pratica, che non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Allora, intanto per chiarirci, noi siamo da novembre, nel 2013, e stiamo parlando l'assessore, se ricordo l'assessore, con questa notte, con le richieste di sorvegli, per la questione dell'approvazione di questa parola del programma. Siamo assolutamente d'accordo su questa notte. Siamo assolutamente d'accordo, perché va fatto, perché è necessario, perché, comunque, il regolatore è in mente, perché non ci costa un sacco di soldi, quindi, la gestione, quindi, l'accesso agli altri esterni, che dovrebbero essere quelle che sono previste dal posto, sono comunque necessari. Il problema è che cosa stiamo tuttando oggi, cosa andiamo a deliberare oggi. Perché la delibera, parla chiaro, dice, la delibera, di approvare l'accordo di programma, la norma legata, subordinando tale approvazione, all'esseremente, all'esseremente il caso. Quindi, non c'è nessuna... Non è d'accordo che è uguale agli altri, che hanno fatto i altri quattro o cinque attori, ma se è un attore, uno dei cinque attori, se si chiede in che, in quali tempi rispetto ai quegli altri, se te le posso dire, invece stanno dicendo, che è andato in vista meglio, perché chi ha fatto questa richiesta, questa religione di croce, che è preoccupato per le regole, di quello che potrebbe avvenire, ha posto delle condizioni corrette, per quanto riguarda le perdite. Per l'economia, non so come fare, come dire, accettare. Io non so se mi ha partito, a Dallora, che oggi deve farsi un riviatore, una vasca di un pezzo, per molti dire, con le mezze, ma che deve adesso dare altri risorti, a un buon d'invento, nello specifico, a un solde del perchè, e senza sapere qual è questa cifra, come si fa, non si fa, non si fa, non si fa. Quindi, noi adesso andiamo a portare, una delibera, che ci dice, esattamente, siete, andremo a propone, agli altri, e quindi, questa richiesta, nel più di un errore, non abbiamo nessuna delibera, nessuna maniera, non è un grande, non è un grande, stava portando, una, non ha portato un po' per accogli, no, non è un grande, una cosa in un grande, questa è la storia. quindi, come dicevamo, ci sa di prima, non è proprio un po', non è proprio un po' per accogli, non è un po' per accogli. No, ha detto una cosa, non è un po' per me, non è un po' per accogli, ha detto che l'avamo provato dagli altri, che invece, non è un po' per accogli, non è un po' per accogli, se qua, ci abbiamo un accordo, che stiamo a trovare, al pieno, di tutti gli atti attori i comuni non è adesso di 10 anni di 10 anni si o no e ora è più meglio ma è più meglio anche partendo da questo posto che noi possiamo dare per buono il fatto che ci sia una reazione tecnica e quindi la reazione tecnica sia esaurita la questione degli eroi è un problema le eroi sono un problema c'è una forma che è presumibile possibile illegittimità di accusare l'eroi allora scusate bastate in questi segni voi faceste un quesito alla volta e dopo un mese o due vi avrebbero risposto cosa succede se le eroi sono illegittime succede che avrò un progetto con una condizione che mi sembra regolata se gli altri comuni non accettano regolati e o se ho delle sue legittime questo accordo della loro approfazione è ecce perché voi l'avete condizionata e deve riferire il vostro comunale o che deve riferire in tutti gli altri comuni risultato un anno risultato un anno se voi arrivate come il franello dell'aere che dice va bene l'eroga non facciamo il problema non vorrei l'eroga viene l'eroga questo eroga la resta la resta l'infera la stessa la stessa la stessa la stessa rischiamo un anno ma io ci dico solo questo vi abbiamo detto io in meraviglia qua le cose che mi sarebbero sono scopi no gli abbiamo detto che il porto bisognava arrivare la professione di maniera parentima e pensate che poi in trasferirà ci ha messo in una faccia a mettere successo con la ragione lei gli aveva detto che era lì cosa sarebbe stato un problema in modo che aveva detto cosa da fare ci ha messo in faccia e siamo arrivati a cosa stusco vi abbiamo detto che se ci ha messo un problema ci ha messo che non lo vera la metterebbe da noi adesso mi diciate questa cosa che si impantana è la delibera rischia di attraverso una faccia informale legata alle arroide legata alle arroide volete andare avanti benissimo però rimanere registrato io vi dico che questa volta in programma prima di un anno non è firmato mi sbaglierò per la rischia comunale e mi chiederemo per me se non dirà un altro questa cosa in programma si impantana e i tempi si appurano le problematiche e rischia un'altra cosa di un po' faccio se la leggo io 3-1-9 se la rischia da quello 4-0 ecco quale è il problema di fuoco e rischia di fronte di fuoco allora siccome comunque noi siamo favorevoli all'accordo con la tutta la stessa che saremo se volete la tutta la ma riteniamo che in pratica abbia un problema sommale che esiste di una parola e sia pasticciata in questo senso siccome non ci vedete in posizione di portare a portare tranquilli ci asteniamo sulla parola nuovo centro destra poterà a favore di questa pratica che riteniamo anche un'eseramente importante che anche alla realtà si colleghino con questo e quindi cambiamo a favore di questa pratica di questa attività di questa pratica per quello possibile posto che la relazione afferma che dice che approccia non dice ha fatto partita affermato l'unice dell'agare che in questo tempo non sarebbe stato male presente o che forse non dovrebbe essere visto che la pratica sulle del duratore e di tale di carriza voi avrebbe potuto dare un'interprezzazione sul quale è e non sarebbe stata quella autentica di chi ha fatto il pare rilevo in onda che esiste quella relazione dell'unice è altra ma non dice quello che vede ora ma non è assolutamente alle altra chiamata la lettera di Stato e Marche 24 che c'era delle prossime per la regione chissà perché sia così importante che le ricorse a Genova per farsela fare è così importante che non ce la mettiamo ma del resto nella correnessa che leggiamo anche delle ordinate tipo che la conferenza del fila si è venuta 5 0 nel 2014 e anche altre cose che francamente non avevo pensato di che poteva essere solo allora di mattino e poi oltre a quello che abbiamo sempre detto non so se qualcuno si è fatto un elemento che a di ha di risorse quando costerà una stessa di sanità di 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 tutti e anche se non deve vedere quante risorse ha di pagare questo ma è un piccolo che ha modificato che noi non abbiamo comunque saputo imporre la foto di programma lei si ha guardato ma non è su la la svega perché quel giorno la pratica lei non ha chiesto di quella serie di arancini perché questo comune non fosse obbligato a collettarli senza poter rispettare dei soldi e senza sapere che si erano sostenibili. Quindi, come forzitate, abbiamo una pratica vita.